a chi tocca? a chi tocca? mamma mi sto caduto trasso e andiamo in casa papà vai metti i pantaloni lunghi allora ecco mettiamo l'elastico attacca l'elastico e via non c'è un problema di come lecker si eh la lampa sasta sapete che roba io neanche consiglio ma dire che sei vancherito non l'ha riconosciuto Simone? si sapevi vedere Valero ma adesso devi si dici che trovi uomini benosamente giupolosi uomo due piedi 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 questo qua mi ricorda troppo la mezzetta mi lasciava una testa anche questo di quelle buone ma è qualche da dire un dio guarda che ci somiglia all'amedeo eh? che come modi di fao ecco mi lasciava una testa di cazzo Grazie. 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 Togliamo la rifiuti. E andiamo in alto. Bravo Stefano. Dove va, dove va? Ho perso. Pino di irrazionale. E alla esteca, quando sai che quelle due robe nelle ele aiutano abbastanza. E anche è un casino. Niente, ti hanno un tampone a volare? No, non ci siamo nemmeno i carini. Ma noi ci siamo domenica. Mi chiedevo staccato qua. Quella è, è semplice, no? Quella che dico Gioardo. Sì. 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 Ah, buon, ha detto una specula. Cinque cilindri. Sì, tricento. Ah, ok. Un prezzo buono magari. Oh, no, no, no. Un muro normale. Sì. Un po' a***. Un po' a***. Un po' a***. Un po' a***. Quella è che Romolo riesce meglio? È brutta vivo! Secondo me c'è il cannone troppo corto. Romolo riesce meglio in foto che non dal vivo che ce li facci. Com'è più bello in foto? Ma chissà che schifo? hai fatto un brufolo con quei cannoni è che non sono capace di fare l'uno dell'altro guarda bella la foto che fa dei delizie di tu e lui così così adesso ci sei anche te non ti rida come un cretino quindi vorrei abbattare l'altro il salutino l'ha già fatto il salutino l'ha già fatto ciao ciao